A fare eruzione nello stabilimento di via Pietronenni a Casteldaccio il 28 ottobre scorso erano stati in tre. Avvolto coperto e armati di pistola si erano introdotti negli uffici della Gesco, ditta del gruppo Amadori, terrorizzando e minacciando i dipendenti, immobilizzandoli con il nastro adesivo e svuotando la cassaforte prima di fuggire praticamente indisturbati. Un colpo perfetto, bottino da 50.000 euro tra assegne e denaro contante. Adesso, a distanza di quattro mesi, i carabinieri di Bagherì hanno fatto luce sugli autori, due dei quali sono finiti in manette all'alba, ma anche sulla dinamica e sul movente di quella rapina architettata nel dettaglio. L'arresto è scattato per Roberto Rugnetta, di 43 anni, e Francesco Paolo Coppolino, di 35, e sarebbe stato proprio lui, secondo gli investigatori, la mente e l'uomo chiave del colpo. Autotrasportatore, aveva lavorato per la Amadori fino a qualche giorno prima, poi però era stato licenziato. Di qui la decisione di passare all'azione, quella mattina nel 28 ottobre, poco prima che scattasse l'assalto, lui stesso si era recato allo stabilimento con la scusa di consegnare documenti contabili. Il vero obiettivo, invece, era quello di lasciare aperto il cancello e le porte degli uffici, così da agevolare l'irruzione da parte dei complici, come in effetti accadde. Coppolino andò via pochi istanti prima, in modo da non apparire coinvolto. A mettere a segno il colpo, invece, fu Roberto Rugnetta, con altri due uomini non ancora identificati. Adesso le indagini proseguono, proprio per arrivare alla loro identità.